Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna è stato chiuso per lavori il tratto tra Aglio e Roncobilaccio, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, in direzione Roma rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino, in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, Infibili rallentamenti tra Scandice e la Strassigna verso Livorno e code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze Stasera in orario 22.01 non sarà possibile effettuare ricarica ai veicoli elettrici del Comune di Firenze per manutenzione sulle colonnine ad opera di Enel X Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, anche per oggi è tutto, a domani buon viaggio Grazie a tutti!